Una volante della polizia di Lecce nel pomeriggio di ieri ha controllato tre donne che si trovavano tra via Nazareosauro e via Imperatore Adriano. Una di esse era già nota ai poliziotti in quanto era stata denunciata per furto nel settembre dello scorso anno. Gli agenti hanno così proceduto al controllo dei documenti e delle vistose borse che le donne avevano con sé. Alla richiesta dei documenti d'identità le tre tuttavia hanno dichiarato di non averne addosso oltre a reagire al controllo in maniera stizzita. Così mentre una delle tre ha fatto richiesta di interpellare il proprio avvocato un'altra ha eccepito che gli agenti non potevano controllare le generalità e il contenuto della borsa in quanto uomini. Tutte e tre in possesso di borse schermate con doppio fondo in alluminio per erudere i sistemi antitaccheggio. Sono state così fermate e hanno dichiarato di essere aggiunte a Lecce in treno. Tuttavia essendoci un mazzo di chiavi corrispondenti ad una smart in una delle borse che apriva proprio una delle auto vicino alla quale tre si trovavano gli agenti hanno controllato anche l'autovettura. All'interno della smart 4-4 c'erano tre carte d'identità corrispondenti alle tre donne brindisine, due oggetti metallici per staccare le placche antitaccheggio ed un cappello di lana di marca di una nota azienda di abbigliamento sportivo ancora completo del tagliando di marca, prezzo e placche antitaccheggio chiaramente di provenienza furtiva. Una delle fermate vista la situazione ha quindi cercato di allontanarsi e opponendo resistenza nei confronti dei poliziotti. Al termine degli accertamenti le tre donne rispettivamente di 38, 35 e 21 anni sono state indagate in stato di libertà per ricettazione. Una di loro anche per resistenza e visti numerosissimi precedenti penali per furto allontanate anche dal comune di Lecce con foglio di via obbligatorio che impone loro il divieto di fare ritorno nel capoluogo salentino per tre anni.